mannaggia mannaggia te pareva ma te pareva ma si può una volta tanto no vero no no mannaggia un altro punto cominciamo guardate non potevamo cominciare peggio questo anno che altro che bellissimo anno altro che bell'anno questo signore benedetto ma perché dobbiamo sempre cominciare male poi un'altra volta un altro pareggio ma daia ma come si fa ma dai ragazzi un pareggio contro il genoa che rischia di retrocedere ma si salverà forse per miracolo ma ci rendiamo conto incredibile veramente io non so più che dirvi quest'oggi non ho parole io non ho parole siamo riusciti a prendere gol da destro ormai a 40 anni quello gioca ancora e ci segna vabbè è stato un grandissimo contropiede questa volta quello di appunto del genoa però che abbiamo fatto la partita e poi prendiamo gol così oma ma noi siamo fuori noi siamo malati ma noi non riusciamo ma intanto immobile continua a segnare comunque poi ha preso una botta e speriamo non si non si sia infortunato no però mamma mia ma come si fa ma io dico no ma dai ma dai mamma mia e pensare che nell'era in zaghi il primo dell'anno la prima partita del nuovo anno l'abbiamo sempre vinta e adesso ovviamente quest'anno almeno in champions facciamo bella figura per piacere contro il buyer monaco perché non ne posso più altro che scudetto l'ho guffata tantissimo quest'anno vedrete il prossimo anno che sarò un po più attento mi riguarderò un po ma non è possibile perdere contro il genoa ma dai ma come si fa ma come si fa ma perché devo sempre fare gli super sfoghi ma è impressionante devo sempre fare i super sfoghi contro la lazio poi mamma mia radu ma radu dorme in difesa dorme e non capisco perché c'è ud in forma perché metti lui accidenti metti lui no invece radu sempre radu ma non è una cosa possibile che pareva che doveva mettere radu ma dai ma dai radu sempre sempre radula ma sveglia in zaghi sveglia mamma mia poi che dire va bene tutto va bene tutto ma non possiamo buttare due punti così cioè ma veramente non ne posso più quest'anno non ne posso più è una cosa impressionante veramente basta ma basta pareggiare così veramente abbiamo stancato anche i sassi poi veramente oggi comunque non è che abbiamo giocato male anzi è poiché 6 lo si ha mangiato un gol incredibile murici basta ormai siamo stanchi di aspettarti fai qualcosa comunque quando sei entrato si poi da lazio anche verso la fine insomma ha fatto la partita ha provato ha fatto il molto possesso palla ma appunto sembra che in questa stagione quando siamo noi che dobbiamo fare il gioco contro le squadre più piccole non riusciamo a fare a combinare nulla 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 veramente nel senso che poi non è che giochiamo male ma non riusciamo a fare punti e questa è una cosa grave perché adesso la juventus e probabilmente quest'anno farà una stagione pessima simile speriamo non meglio della lazio no però ci troviamo adesso che l'inter ha vinto anche di molto ha battuto il crotone veramente con tanti gol di scarto e adesso poi vedremo il milan e tutti potevamo guadagnare qualche punto e noi perdiamo contro una delle ultime in classifica basta non ne posso più svegliatevi mamma mia ma che vi devo dire io cioè che non lasciamo perdere va che è meglio sotto in descrizione il link per seguirmi su instagram comunque poi ovviamente anche diciamo che adesso ieri insomma in questo fine settimana dovevo uscire prima di questa partita il pagellone no del della nella prima parte di stagione della lazio e purtroppo mi dispiace ma ho avuto un problema e quindi ormai non penso più che uscirà dato che abbiamo di come stiamo ricominciando la seconda parte del campionato nel campionato della stagione diciamo anche anche se la dobbiamo ancora a finire insomma molte insomma sul mio canale diciamo che farò più live quindi ormai non avrò più tempo per fare questo in poco in poche parole però il pagellone della stagione 2020 nella formula 1 me lo porterò state tranquilli dato che avanti ormai avanti che ci sia il prossimo gp sarà marzo quindi avrò avrò tempo per la formula 1 mi dispiace per appunto il pagellone della lazio ma con calma farò quella di fine anno tranquilli e fra poco comincerà il calcio mercato quindi parleremo molto di calcio mercato lazio e via dicendo anche soprattutto con molti ospiti dato che ho visto che mi piace fare delle live così quindi mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto perché ho notato poi che molti di voi sono che sono iscritti non guardano i miei video e poi ho notato anche che molti che guardano molte persone che guardano i miei video appunto non sono iscritti quindi mi raccomando a voi non costa nulla per me è importante quindi fatelo che adesso puntiamo ai 100 iscritti quindi è un bel traguardo che vorrei raggiungere entro il giorno del mio compleanno a maggio non vi dico quando però comunque ecco se riusciamo in qualche modo a raggiungerlo mi farebbe piacere bene allora poi comunque veramente ritornando a noi adesso calmiamoci un po e potrei dirvi solo una cosa no che veramente quest'anno diciamo pensavo che la lazio facesse meglio speriamo insomma non speriamo di ritornare a fare qualche punto ai passi ma diciamo che in questa stagione io la vedo dura sinceramente speriamo bene anche se ma vabbè dai allora io concludo qua questo video prima però di farlo volevo anche dirvi che allora probabilmente questa settimana ci faremo un'altra ci farò una live con un paio di ospiti mi raccomando attivate la campanellina perché appunto se non volete perdervi i miei video le mie live eccetera vi consiglio di farlo no ecco appunto poi comunque mamma mia questa stagione veramente e poi non ci va nulla di bene perché un po di fortuna anche dalla nostra parte no cioè se con un po di fortuna si poteva anche portare a casa tre punti no perché alla fine abbiamo abbiamo sprecato molte occasioni abbiamo fatto il gioco ma non riusciamo a fare gol anche se la maggior parte delle volte facciamo comunque gol ma non riusciamo non riusciamo a essere decisivi a portare a casa i punti e questo mi fa innervosire bene veramente oggi una prestazione comunque non proprio al massimo delle possibilità anche se comunque avevamo qualche infortunio grazie a tutti 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 grazie a tutti